Abbiamo con noi le nostre missioni. Carlotta, 36 anni, da quando abita nella sua casa non è riuscita a sfruttare il suo balcone come voleva. Direi che è una missione interessante e sono curioso di vedere come te la caverai, se te la caverai. Sono stato a casa di Carlotta, ho visto il suo balcone così poco utilizzato. Adesso andremo al garden dove ci aspetta Andrea il giardiniere. Insieme a lui cercherò di selezionare le piante migliori per la realizzazione di questo progetto. Con Carlotta invece andremo a scegliere magari degli oggetti d'arredo, qualcosa che renda anche vivibile e comodo questo balcone. Vabbè Matteo, vediamo adesso la tua sfida. Qui abbiamo Cecilia, 29 anni, vorrebbe uno spazio dinamico, colorato e funzionale a sé e alle proprie bambine. Tutto sommato sarà una bella sfida. Per Cecilia ho scelto colori vivaci che possono essere inseriti all'interno di un perimetro sempreverde. Ora al garden mi affiderò ad Andrea e lascerò Cecilia sbizzarrirsi per la scelta delle piante. Adesso Andrea si sposta sul terrazzo, inizia a lavorare, a preparare, allestire tutto quanto. Con Cecilia invece andiamo in negozio a scegliere tutto ciò che è styling.